Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Nel video di oggi vorrei fissare alcuni punti in merito all'argomento miscellane. Miscellane, dette anche funzioni ausiliari, dette anche mcode, insomma molti modi diversi per poi sostanzialmente dire la stessa identica cosa. Prima di iniziare realmente con il video vi suggerisco di mettere un bel like a questo video, mettetelo preventivo, metti che alla fine poi vi dimenticate. Di sicuro vi devo ricordare anche di iscrivervi al canale, nessuno è obbligato anche se a me farebbe molto piacere, però purtroppo anche se non siete obbligati sappiate che chi non si iscrive al canale purtroppo gli sta per cadere il telefono in mezzo ad un pagliaio e farà fatica a ritrovarlo. Facciamo finta che tu che stai guardando questo video in realtà non sappia assolutamente di cosa sto parlando. Allora facciamo un'estrema sintesi. Secondo lo standard ISO internazionale la programmazione di una macchina utensile avviene attraverso dei codici. Questi codici sono sostanzialmente una combinazione fra lettere e numeri e questo fa sì che verranno quindi date le istruzioni su come si deve muovere, su come si deve comportare una macchina CNC. Su questo canale io mi occupo in realtà di programmazione Heidelin che è un linguaggio conversazionale e può sembrare che in realtà sul conversazionale le cose avvengano in maniera diversa. In realtà succede la stessa identica cosa, sempre lì poi si va a finire. È sempre una combinazione fra lettere e numeri. Quindi banalmente abbiamo una lettera che identifica cosa deve succedere, quindi cosa deve fare la macchina. Il numero che segue invece è il come deve fare questa cosa qui che li dico. L'esempio più eclatante è il G-code che secondo me erroneamente viene usato al posto della parola ISO, invece il G-code diciamo che è una parte dell'ISO. Quindi la lettera G di fronte ad un numero definisce che ora ci deve essere un certo tipo di movimento. Il numero che segue quindi stabilisce che tipo di movimento verrà svolto. Quindi se è un movimento lineare, se è un movimento circolare, se è in lavoro piuttosto che è un movimento rapido, oppure con delle G un po' più complesse, con numeri diciamo un po' più alti, tipo la G81, G83, invece viene definita che ci sarà invece una sequenza di movimenti, a tutti gli effetti un ciclo fisso. Però appunto sempre di movimenti si parla. Ma arriviamo quindi alle funzioni M-code e quindi miscellane. Allora quindi se le G stabiliscono, definiscono dei movimenti, quindi danno delle informazioni geometriche. Le M cosa fanno? Ecco, le M danno sostanzialmente delle istruzioni accessorie. Visto la mia passione musicale, mi viene da fare un esempio di questo tipo. Prendetelo con le pinze, prendetelo come volete, però a me piace. Quindi immaginiamoci la programmazione di una macchina CNC esattamente come se fosse un'orchestra. L'orchestra si muove sullo spartito. Ecco, per me quello è il G-code. Quindi è la sequenza di note che il singolo musicista deve eseguire. Quindi la sequenza di movimenti che la nostra macchina utensile dovrà svolgere. E quindi le funzioni M invece io le vedo come il ruolo, come diciamo i gesti, la gestualità del direttore d'orchestra. Quindi spetta il direttore d'orchestra dare l'avvio alla determinata sezione. Spetta il direttore d'orchestra modulare i suoni, modulare il volume, dare l'intensità, l'intenzione di quello che è freddamente scritto sullo spartito. Ecco, per me le funzioni ausiliarie hanno questo tipo di ruolo accessorio, ma sicuramente fondamentale e fanno sì che quella semplice sequenza di punti in realtà si completi nella esecuzione poi della nostra lavorazione. Le funzioni M non sono tutte uguali tra loro, ovviamente, ma soprattutto le abbiamo divise diciamo in tre macro categorie. Allora di sicuro alcune M appartengono pienamente allo standard ISO e quindi vuol dire che le ritroviamo identiche in tutti i linguaggi di programmazione perché proprio è una codifica internazionale. Le riconosciamo perché hanno banalmente dei numeri molto bassi, quindi un M0 che è un arresto incondizionato, un M1 che è l'arresto diciamo opzionale condizionato, l'M2 che chiude il programma, l'M3, M4, M5 che invece gestiscono la rotazione o l'arresto del mandrino, l'M6 che si occupa del cambio utensile. Poi in realtà in Aidenale l'M6 è già stato eliminato da tempo, però comunque rientra nello standard ISO. E quindi insomma molte funzioni noi le troviamo nello stesso, in tutti i tipi di linguaggio di programmazione e le riconosciamo anche dal fatto che sono identificate da un valore numerico molto basso. Poi abbiamo una seconda famiglia di miscellane di funzioni M che sono invece strettamente legate al controllore CNC. Quindi ogni controllo numerico avrà le sue M native del linguaggio di programmazione. Io su questo canale mi occupo di Aidenale, quindi insomma vi posso comunque dare come riferimento numerico che sostanzialmente le M native Aidenale sono sotto il numero 200. Le troviamo da un valore numerico che supera quelli dell'ISO arrivare circa al numero 200. Diciamo quello è più o meno lo spazio mi è sembrato di capire che Aidenale si prende per gestire le proprie funzioni ausiliari. Non tutti i numeri sono occupati, quindi qualche numero può essere comunque magari occupato, venire poi occupato dal costruttore della macchina. Tra l'altro un proposto di funzioni ausiliarie. Nel corso del tempo ho realizzato alcuni video in cui spiegavo per esempio la funzione M120 e la funzione M197. Magari ve li metto qua sotto in descrizione che se volete andare a ripescarli che non li avete mai visti, almeno potrete approfittare in questa occasione qua. Poi c'è una terza famiglia di funzioni ausiliarie M che ritengo essere proprio cruciale e fondamentale a ricordarsi. Ovvero alcune funzioni M non sono né ISO, non sono neanche native del controllore, ma sono esclusivamente legato al produttore della macchina CNC. Quindi bisogna sempre prestare attenzione ragazzi perché può tranquillamente succedere che la funzione M sulla macchina tal dei tali attiva la refrigerazione interna al mandrino invece su un'altra macchina fa tutt'altro. Possa avere una M che su un macchinario magari agisce sulla sincronizzazione o la gestione degli assi paralleli e la stessa M su un'altra macchina invece magari va a lavorare, che so io, sulle zone di interferenza. Per cui bisogna sempre prestare molta attenzione. Allora normalmente diciamo che il 99% dei costruttori inseriscono queste M proprie con dei numeri molto alti, tendenzialmente sopra il 300. Poi qua e là invece le possiamo comunque trovare sparpagliate anche su numeri più bassi. Però diciamo che lì sarebbe diciamo il loro spazio di memoria, il loro spazio di azione del PLC diciamo più adeguato proprio per per far sì che anche l'operatore in maniera molto rapida riesca a riconoscere quello che quello che sta accadendo nel momento in cui poi fa scorrere un programma. Quindi se si sta muovendo su funzioni Aidenar, su funzioni ISO o funzioni del costruttore. perché ritengo che sia cruciale e fondamentale ricordarsi che esistono quelle dei costruttori? Perché molto spesso mi succede che per telefono, per mail, che magari mi venga fatta una domanda del tipo questo problema potrebbe essere legata alla M435. Ecco io la M435 in realtà sono autorizzato a non sapere assolutamente di cosa si occupa perché diciamo perché è una cosa specifica della macchina e quindi in realtà per dare una risposta di questo tipo dovrei sapere che macchina è e idealmente avere anche sfogliato diciamo il manuale. Perché ci sono comunque queste funzioni M strettamente legate ai costruttori della macchina? Non perché Aidenar ti compili il PLC in maniera incompleta ma semplicemente perché diciamo il PLC Basic prevede tutta una serie di funzioni ma non può prevedere per intero tutta quella che può essere diciamo la customizzazione del produttore del macchinario o le esigenze appunto del del produttore del macchinario. Esempio banale esisterebbero standard alle M50 e M51 su Aidenar che si occupano della dello start e dello stop dell'evacuatore del truccelo. In realtà un costruttore può anche valutare di montare due o più evacuatori sulla propria macchina magari indipendenti tra loro e quindi nasce la necessità di di dover gestirsi con altre funzioni ausiliarie perché una sola 50 e 51 non basterebbe ma deve stabilire la propria M che fa partire il sole evacuatore destro piuttosto che sinistro piuttosto che anteriore piuttosto che posteriore. Quindi per questo motivo questo è un esempio molto semplice poi ci sono molte cose appunto che riguardano interferenze fine corse estensioni delle corse è tutta una serie di anche di monitoraggi che è il costruttore stesso che decide in funzione del proprio macchinario e che quindi costruisce le proprie le proprie funzioni ausiliarie. Quindi direi che dovete fare molta attenzione oltre a il banale passaggio magari tra una macchina e l'altra ma direi anche fare attenzione quando a livello social ogni tanto mi capita di di leggere o di assistere a dei a dei dialoghi dei botte a risposta in cui uno menziona la propria M e poi arrivano magari delle risposte delle risposte un po a casaccio. Ecco fate attenzione a dare indicazioni perché sicuramente viene fatto in buona fede però insomma bisogna fare attenzione perché magari con tutta la buona fede del mondo in realtà state dando un'indicazione assolutamente sbagliata che poi in realtà ha ripercussioni ben diverse rispetto a a quello che era magari la richiesta del vostro interlocutore. Quindi sempre attenzione non è che devo mettercela solo io anche voi. Allora in questo video non ho praticamente mostrato nei simulatori né disegni né niente. Non è che vi ho spiegato nulla di didattico però mi piaceva in realtà mettere un po' di chiarezza in merito alle funzioni alle funzioni ausiliare M nonché M code nonché miscellane. In realtà potrebbe anche essere carino pensare magari ad un video in cui vi mostro come costruire e caricare sul cn una propria funzione ausiliaria M. no niente ho già cambiato idea perché poi va a finire che se fate i macelli è colpa mia. Quindi quello non lo farò. Quello non lo farò. Però comunque la cosa che invece devo fare assolutamente è quello di rinnovarvi l'invito ad iscrivervi al canale, mettere dei like, se vi iscrivete non vi perdete i vari materiali che pubblicherò, alcuni magari più interessanti, altri meno interessanti, però che costa? Iscrivetevi e non vi perdete nulla. A posto così, dai ragazzi vi saluto, buon lavoro e al prossimo. Ciao ciao! Ciao!